Mi aspetto quanto prima di trovare qualche soluzione per i tanti residenti delle aree nelle quali si vive questa movida napoletana che è importante dal punto di vista del divertimento per i giovani e per le nostre generazioni più giovani ma bisogna controllare bene, bisogna aumentare i controlli, bisogna migliorare la qualità della vita dei residenti perché veramente si è arrivato a un punto di non ritorno. Una commissione consigliare congiunta questa mattina ha affrontato il tema della movida napoletana allargando il discorso e la ricerca delle soluzioni non solo alla zona dei cosiddetti baretti di Chiaia e Bianiello Falcone ma anche agli altri quartieri della città interessati dalla problematica in maniera non meno incisiva. La seconda ordinanza fatta insomma proprio in virtù di aver ascoltato sia i comitati dei cittadini, i comitati dei cosiddetti baretti sia di Chiaia, di Falcone e le altre realtà di Bagnoli eccetera chiaramente hanno dato un frutto positivo chiaramente che può essere migliorato e queste saranno le proposte future insomma fatte sia dai consiglieri che dalla parte tecnica quindi rappresentata dalla Polizia Municipale ci aiuterà a dare maggiore vivibilità ai cittadini e poi regole certe che aiutano anche i commercianti virtuosi. L'amministrazione comunale ha messo in campo grazie alla volontà del sindaco un grande momento che è durato tutto l'ultimo anno di ascolto e di confronto continuo con i territori, i presidenti di municipalità ma soprattutto con le realtà di residenti, di commercianti gli operatori culturali che insistono nelle aree della cosiddetta movida soprattutto all'insegna anche di un nuovo dispositivo, la nuova ordinanza che è stata fondamentale per consentire alla nostra eccellente Polizia Locale di intervenire e quintuplicare quasi gli interventi sul territorio. E' normale che questo appuntamento lo viviamo con il senso della trasparenza e di voler raccontare le tante cose che abbiamo messo in campo ma soprattutto continuare all'insegna di un impegno costante di settimana in settimana soprattutto che viene reso qualificato ed efficiente grazie alle segnalazioni dirette dei residenti e dei cittadini. I due comandanti Pagnano e Frattini coordinati dal nostro comandante della Polizia Locale Ciro Esposito oggi sono presenti, potranno raccontare gli interventi che mettono in campo ormai con grande costanza da quando l'ordinanza è attiva ma soprattutto a loro va anche in questa occasione un importante ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale per un efficace lavoro che ogni sera li vede impegnati in strada.